Stava riprendendosi da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo di gioco per diverso tempo. Era rientrato contro l'Akragas nella precedente gara casalinga e entrato anche ieri contro la capolista Savoia. All'ensovasi ha sostituito il capitano Peppe Guido, già ironia della sorte, quello stesso compagno di viaggio di ieri. Il calcio era nel suo DNA, mezza alla sinistra, classe 91, piedi buoni, grande visione di gioco, grinta e temperamento da vendere. Riusciva a farsi spazio anche adesso che non era più un juniores. Ragazzo pulito, solare, sorridente, semplice, ma con quella passione nel cuore che lo ha portato a vestire, prima della maglia del Due Torri, anche quella della sua città. Nel 2007, per seguire quella passione, quel sogno, il DS Benedetto Botteri aveva dovuto richiedere l'autorizzazione medica perché Marco ancora non era in età tesserabile. Promozione, eccellenza, serie D, qui sotto la direzione di Antonio Venuto, 30 presenze ed una rete contro l'Avellino, ma anche infortuni, pubalgia, fuori sei mesi, guai muscolari, altri mesi out. Un precontratto con il Milazzo di Lomonaco per la C2, ma ancora un infortunio, rottura del penore. Poi, due Torri, per ritornare in campo, sempre insieme a Botteri. A Piraino era il suo terzo anno, ancora tanta voglia di giocare, ma ancora tanta sfortuna, uno strappo al flessore, fuori cinque mesi. Ieri il suo secondo scorcio di partita, ci serviva per i play-out, era importante, lo volevamo in campo, così il suo mentore ed amico, Benedetto Bottari. È entrato all'ottantunesimo, su all'ultima palla della partita, un calcio di punizione, poi il triplice fischio, la doccia, il viaggio, l'ultimo, verso casa, verso la sua Milazzo, quella strada, quella curva. Ora è solo il ricordo di un ragazzo che aveva un sogno, tanta grinta, tanta voglia di emergere, vincere, vivere. Il ricordo di Marco è affidato agli amici, a tutte le persone che hanno giocato con lui, ma anche ai social network. A Marco, ieri, oggi, sono diregate tante notizie, tanti post. Anche sulla pagina ufficiale di Serie A Team, Marco Salmeri, da Milazzo, che giocava nel Due Torri, si è fatto spazio, senza sgomitare, perché lui era bravo, una benzala dai piedi buoni, ha trovato subito un posto da titolare.